Comunque sia tra pro e contro la curiosità sulla figura controversa del generale Vannacci che a Pescara presenterà il prossimo 13 ottobre il suo libro Il mondo al contrario c'è invitato nella sala consigliare del comune dal capogruppo della Lega in consiglio regionale Vincenzo Dincecco che ci parla di questo appuntamento Diciamo che siamo tutti contenti, sono contento che si parli di questo libro perché penso che se è in cima alle vendite in questo momento in Italia evidentemente c'è un interesse per questa sorta di trattato sul mondo moderno chiamiamolo così o sulle cose che evidentemente vengono descritte all'interno di una dinamica sociale attuale Dopodiché tutte le polemiche che sono scaturite credo che siano controproducenti per chi le alimenta io credo che in una società moderna qualsiasi persona sia libera di scrivere un libro e esporre proprie tesi rispetto a certi usi e costumi e possa tranquillamente presentarle guai se non fosse così quindi evidentemente c'è qualcuno che pensa che in questa società alcune cose si possono scrivere altre cose non si possono scrivere un pensiero si possa avere, un altro pensiero non si può avere io non credo che sia così, credo che tutti i pensieri abbiano la libertà di essere espressi devono avere la libertà di essere espressi e devono esserci occasioni per poterne parlare Ovviamente c'è modo e modo Modo e modo soprattutto di immaginare che la presentazione di un libro di un servitore dello Stato debba essere osteggiata attraverso la richiesta di sit-in di protesta Io penso che la sala consigliare del Comune di Pescara che è regolata da un apposito regolamento del Consiglio Comunale che il sottoscritto ha pagato e affittato regolarmente come prevede il regolamento dello stesso Consiglio Comunale possa essere il luogo di tutti i cittadini quindi quando a febbraio la nipote di Fidel Castro è venuta a parlare di diritti civili a Cuba e gli organizzatori hanno richiesto l'utilizzo gratuito di quella struttura e quindi non l'hanno pagata nessuno si è sollevato né ha immaginato di fare sit-in di protesta